Adesso, velocemente, un giudizio sui 5 Stelle, ma io direi su qualche uomo dei 5 Stelle, Di Maio era la persona che si capiva prossima alle istituzioni, però ogni giorno mi sembra che venga abbastanza distrutto, perché? Io prima di parlare di Di Maio devo dire che il Movimento 5 Stelle si è distinto perché ha fatto delle proposte di legge, ha adottato dei provvedimenti che vanno secondo la Costituzione, ha ridotto lo stipendio delle indennità dei parlamentari, ha chiesto la riduzione delle indennità dei parlamentari che non hanno accettato di autoridursi, ha chiesto che venga approvato il reddito sociale, cosa che ha riconosciuto come necessaria anche il ministro Poletti, cioè il reddito che è previsto dall'articolo 38 della Costituzione, il reddito cosiddetto di cittadinanza. Ha difeso la Costituzione con una battaglia memorabile facendo vincere, no perché senza l'apporto del Movimento 5 Stelle questa battaglia non si sarebbe vinta, quindi io credo che dobbiamo dare necessariamente un giudizio positivo sul Movimento 5 Stelle. E' inutile tirare in ballo sta storia del populismo che non ha né capo né coda perché il populismo evoca il fascismo, il Movimento 5 Stelle rispetta la Costituzione, attua la Costituzione, quindi è un movimento democratico nel quale io mi riconosco anche se non faccio parte del Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda poi Di Maio, Di Maio è una persona per bene che potrà commettere i suoi errori, come l'ho fatto io tanti errori quando ero parlamentare, anche quando ero giudice e io voglio ricordare quello che dice Voltaire, l'onore del giudice come di ogni altro uomo, anche politico, sta nel riconoscere i propri errori. L'attacco a Di Maio è semplicemente dovuto alla paura che possa vincere il Movimento 5 Stelle e che questa vittoria possa avvenire anche grazie ai meriti di Luigi Di Maio e di altri che sono meritevoli come Di Maio perché non è il movimento che si identifica in una persona. Noi abbiamo un gruppo di persone molto qualificate che porta avanti queste battaglie, quindi Di Maio è oggetto di attacchi quotidiani che tendono a eliminare il principale esponente del Movimento 5 Stelle che io considero una persona molto in gamba.